Si definirà nel prossimo fine settimana la partita degli assessori che affiancheranno Laura Nargi alla guida del comune di Avellino. La sindaco si è concesso un breve periodo di vacanza e tornerà ad Avellino a metà settimana. Naturalmente continuano i contatti informali con tutte le componenti e la maggioranza, a cominciare dalle tre liste che l'hanno sostenuta e contestualmente con quelle del patto civico di Rino Genovese che nel turno di ballottaggio hanno siglato un'intesa sul programma. Dieci gli assessori da nominare, due dei quali, finanze e fondi europei dovrebbero essere esterni. Si preannunciano molte riconferme che lascerebbero il posto in Consiglio Comunale ai primi dei non eletti nelle rispettive liste ma anche nuovi ingressi. Resta calda la pista di Marianna Mazza per ricoprire la casella del vice sindaco mentre su quella della presidenza del Consiglio Comunale. La discussione al momento è ancora lontana dal trovare la quadra. Una squadra di governo che andrà completata con le presidenze delle commissioni consigliari, quelle di garanzia per legge, saranno destinate ad esponenti e l'opposizione. Le altre serviranno per bilanciare gli equilibri complessivi all'interno dell'ampia maggioranza sulla quale potrà contare Nargi, 24 consiglieri su 32.